desidero ricordare che la nostra fondazione ha il riconoscimento di personalità giuridica presso e lavora con la prefettura di genova il prefetto è una dottoressa carmen perotta il mio saluto va tutti presenti il mio ringraziamento al sindaco dottor marco bucci per aver offerto questo meraviglioso salone quest'anno i partecipanti sono come al solito del nord del sud del centro e anche della svizzera la maggior parte studia filosofia ma abbiamo anche altri di storia di medicina di giurisprudenza anche il quaderno che presentiamo è il numero 14 sul tema della tredicesima edizione del premio dal titolo che ne è della verità oggi il problema delle fake news il tema è stato scelto dal professor marzonet come sempre e confermato dal consiglio nella riunione che noi abbiamo ogni anno l'undici marzo la commissione giudicatrice del premio di oggi è composta da grandi personaggi come sempre dalla dottoressa sala tagliente direttore news di telegenova che qui ringrazio anche per far fare una ripresa televisiva oggi e poi riproporla in televisione su telegenova e dalla dottoressa francesca forleo nota giornalista nel secolo decimo nonno che ringrazio anche lei per averci fatto un articolo sul secolo giovedì scorso i nostri libri quaderno di ogni anno sono sempre richiesti dallo stato per essere esposti nella biblioteca nazionale centrale di firenze io ringrazio tutti e passo la parola al professor marzonet che annuncerà anche il titolo del nuovo tema per la prossima edizione del premio professor paolo michele erede la persona che non dimenticheremo mai grazie 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 grazie